Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova scheda quiz. Come al solito ho racchiuso le domande più difficili, perciò ascoltate bene, tenetevi pronti e scrivete nei commenti quanti errori fate. Iniziamo! Domanda numero 1. Il segnale raffigurato consente la sosta ai residenti? La risposta corretta è falso, il divieto di sosta dice che la sosta è vietata a tutti i veicoli. Domanda numero 2. La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani? La risposta corretta è vero, la sosta è assolutamente vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. Domanda numero 3. La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto da chi non è già titolare di patente A2 da almeno due anni, solo se ha compiuto 24 anni di età. La risposta corretta è vero, perché? Perché la patente A si può conseguire in due modi, con accesso diretto se non ho la patente A2 da almeno due anni, ma devo aspettare di aver compiuto i 24 anni di età, oppure con accesso graduale. Prima conseguo la patente A2, dopo due anni ho il diritto di conseguire la patente A, anche se non ho superato l'età di 24 anni. Domanda numero 4. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo P passa prima del veicolo B, ma dopo quello N. Andiamo a svolgere l'incrocio e vediamo chi passa per primo e qual è l'ordine corretto. In questo caso, visto che non c'è nessuna segnalazione, si dà la precedenza a destra, perciò il primo passare è il veicolo D, poi P, poi B ed N. In questo caso, rileggendo la domanda, la risposta è falso. Domanda numero 5. Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo. La risposta corretta è falso, perché l'ordine in questo caso nell'incrocio è il primo veicolo a passare è il veicolo L, poi contemporaneamente possono passare sia il veicolo C che il veicolo A, perché hanno la destra libera entrambi, e per ultimo passa il veicolo D. Domanda numero 6. Attenzione che qua c'è un segnale difficile. In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico. La risposta corretta è falso. Il divieto di sorpasso generalmente evita il sorpasso, ma ricordatevi bene, possiamo superare tre tipologie di veicoli all'interno dei nostri quiz della patente B. I ciclomotori, i motocicli e i veicoli che un motore non c'è l'anno. Se l'autoveicolo è elettrico, diesel o benzina, a noi poco cambia, non possiamo superarlo. Domanda numero 7. Durante la sosta il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso? La risposta corretta è vero. Perché? Perché quando noi effettiamo una sosta e quindi parcheggiamo la macchina, poi ci allontaniamo dal nostro veicolo e prima di allontanarci dobbiamo chiuderlo, eh? Mi raccomando. Domanda numero 8. Il salvagente può essere segnalato da colonine luminose a luce gialla fissa? La risposta corretta è vero, perché il salvagente, essendo un marciapiede rialzato, ha bisogno di avere più attenzione a riguardo di chi guida, perché non ci dobbiamo andare sopra, allora può essere segnalato con colonine a luce gialla. Domanda numero 9. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il QS più caricato a massa superiore a quella indicata? La risposta corretta è falso. Questo è un divieto per tutti i veicoli che hanno una massa effettiva superiore a 7 tonnellate di transito, quindi quelli che pesano più di 7 tonnellate o per asse o per peso totale non possono transitare in quella zona. Domanda numero 10. La banchina è riservata ai veicoli lenti nelle strade in salita? La risposta corretta è falso. La banchina è una parte della strada non destinata al transito dei veicoli, mi raccomando. Domanda numero 11. È obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne? La risposta corretta è vero. Perché dobbiamo regolare la velocità di notte? Semplicemente perché senza la luce del giorno cala la visibilità e se cala la visibilità io devo andare con più prudenza. Domanda numero 12. Una zona traffico limitato è un'area vietata al transito dei pedoni durante le ore notturne? La risposta corretta è falso. Perché? Perché la zona traffico limitato non è una limitazione espressa per i pedoni ma per i veicoli. Domanda numero 13. La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce verde del semaforo? La risposta corretta è falso. Nel video dove vi ho spiegato il vigile ricordatevi che quando lui apre le braccia equivale al rosso non al verde. Domanda numero 14. Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore? La risposta corretta è vero. Il quadriciclo motore con questo divieto di transito per i velocipedi può passare perché il divieto è espresso solo per la categoria raffigurata all'interno del segnale stesso. Domanda numero 15. Il segnale raffigurato presegnala una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate in figura? La risposta corretta è falso. In questo caso non è una strada riservata a loro ma è un divieto di transito per i veicoli sottodisegnati. In questo caso indica il divieto di transito a tutti gli autotreni e gli auto articolati. Domanda numero 16. Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo? La risposta corretta è falso perché quando si effettua la sosta il motore deve essere spento. Ricordatevelo. Domanda numero 17. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso danno segni di incertezza. La risposta è vero. Se un pedone attraversa la carreggiata e dà segni di incertezza sia che sia un attraversamento pedonale sia che sia fuori da un attraversamento pedonale purtroppo per noi dobbiamo sempre moderare la velocità e all'occorrenza fermarci perché dobbiamo far di tutto per evitare un incidente con loro. Domanda numero 18. Il semaforo in figura si trova in vicinanza dei binari ferroviari. La risposta corretta è falso. Questo non è assolutamente un semaforo riferito al passaggio livello equilie binari ferroviari ma è un semaforo destinato a tutti i veicoli. Domanda numero 19. Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti. La risposta corretta è vero. Quando conseguite la patente qualsiasi essa sia partite da 20 punti sulla patente ricordatevelo. Domanda numero 20. Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale per sbrinare velocemente il parabrezza. La risposta corretta è vero. Il climatizzatore ha due funzioni. Fare fresco d'estate quando c'è tanto caldo ma disappannare o sbrinare più velocemente il parabrezza. Ricordatevelo eh? Il parabrezza è il vetro davanti. Domanda numero 21. Il segnale A se integrato col pannello B indica una zona in cui vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo. La risposta corretta è vero. Il pannello B e cioè zona rimozione coatta indica appunto che se qualcuno effettua il divieto di sosta in quel luogo arriveranno i vigili, gli faranno la multa, ok? O gli portano via il veicolo col carroattrezzi o glielo bloccano attraverso delle ganasce e quindi c'è la rimozione forzata del veicolo. Domanda numero 22. Il fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni. La risposta corretta è falso. Il fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni arrecati da conducenti non identificati oppure che non hanno una copertura assicurativa. Domanda numero 23. La sospensione della patente può essere risposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo. La risposta corretta è vero. Questo è un capitolo difficilissimo che consiglio di studiare a tutti quelli che devono fare l'esame. Mi raccomando, i casi di ritiro, revoca, sospensione oppure revisione studiateli molto attentamente. Domanda numero 24. L'assunzione di ASCIS o marijuana non compromette la facoltà di guida. La risposta corretta è falso. Qualsiasi droga compromette la facoltà alla guida, perciò non dovete drogarvi, mi raccomando. Domanda numero 25. Nell'intersezione in figura il veicolo T transita per primo. La risposta corretta è vero. T transita per primo, perché è il tram e il tram transita sempre per primo, essendo sulle rotaie. Ricordatevelo bene. Domanda numero 26. La patente di guida di categoria A, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, a validità di 10 anni, se rilasciata o confermata, a chi non ha superato i 50 anni di età. La risposta corretta è vero. Ora, ricordatevi quello che vi sto per dire. Quando parleranno di durata o conferma della patente, le patenti che sono all'interno dei quiz della patente B hanno queste scadenze. Una patente dura 10 anni fino a che non avete superato i 50 anni, da 50 a 70 anni si rinnova ogni 5 anni, da 70 a 80 anni ogni 3 anni e da 80 anni in su ogni 2. Questa è la scadenza delle patenti che avete voi all'interno dei quiz della patente B. C'è solo un caso che è diverso che la patente B. S., che si rinnova ogni 5 anni finché il soggetto non è arrivato a 70 anni. Domanda numero 27. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan? La risposta corretta è falso. Il divieto in figura indica che è vietato il transito a tutti i veicoli che trainano rimorchi e semirimorchi. Il caravan, la roulotte, è un rimorchio e quindi se un'autovettura traina un caravan non può entrare in quella strada. Domanda numero 28. Il semaforo in figura, anche se spento, indica la velocità obbligatoria. La risposta corretta è falso. Questo è un semaforo di onda verde e nel semaforo di onda verde la velocità non è una velocità obbligatoria. Lui vi indica la velocità consigliata che potete fare, quindi decidete di farla oppure no, per usufruire dell'onda verde. Domanda numero 29. È opportuno per il conducente, che accusa segni di stanchezza, raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare? La risposta corretta è vero. Quando il conducente presenta segni di stanchezza deve fermarsi e riposare perché è pericolosissimo guidare se siete stanchi. Rischiate diciamo di addormentarvi improvvisamente. Domanda numero 30. Lo spazio di frenatura diventa 16 volte maggiore se la velocità si quadruplica. La risposta corretta è vero. Ora abbiamo poco tempo quindi non sto a spiegare questa cosa qua perché è lunghissima. Andate a vedere il video inerente alla distanza di sicurezza. Questa cosa è spiegata in maniera perfetta. Domanda numero 31. Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. La risposta corretta è falso perché la distanza di sicurezza è quella distanza che dovete tenere dal veicolo che vi precede, quello che avete davanti, per evitare di colpirlo. Domanda numero 32. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. La risposta corretta è falso. Questo è un segnale di prescrizione. Vi dice cosa si può o non si può fare. In questo caso indica via libera quindi dice che i divieti precedentemente imposti non valgono più. I segnali di indicazione vi forniscono generalmente due informazioni. Dove vi trovate e che cosa potete raggiungere? Ricordatevelo bene. Domanda numero 33. 3. Lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue. La risposta corretta è vero. Lo stato di shock si può manifestare in varie forme. Pelle molto palida, sudore freddo, non capiamo più niente e anche una forte perdita di sangue può indurci a quello stato. Domanda numero 34. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità. La risposta corretta è falso. Gli occhiali da vista e le lenti a contatto si devono usare se sulla patente sono prescritti o per esteso, c'è scritto, oppure sotto forma di codice. Il codice che indica tale obbligo si chiama codice armonizzato 01. Ricordatevelo. Domanda numero 35. 5. In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a zigzag per far meglio notare la propria presenza. La risposta è assolutamente falsa. Se c'è la nebbia e non ci vedo non posso andare a zigzag, ricordatevelo bene. Domanda numero 36. È vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal conducente. La risposta corretta è falso. Facciamo un esempio così ci capiamo subito. Immaginate che mio padre ha il suo veicolo ed è intestato lui, posso usarlo anche io, anche se non sono direttamente proprietario. Domanda numero 37. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo P impegna l'incrocio per primo, ma si deve fermare al centro di esso. La risposta corretta è falso. L'ordine in questo incrocio è P transita per primo, quindi passa per primo, poi passa il veicolo B e in ultimo passa il veicolo C. Domanda numero 38. Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua. Ora, attenzione perché questo è difficile. Il divieto di sorpasso indica il divieto assoluto di superare determinate categorie di veicoli. Semplifichiamolo. Ricordatevi che con questo segnale gli unici veicoli che potete superare sono i ciclomotori, i motocicli e i veicoli che non hanno il motore. Questo sempre inerente ai quiz della patente B. Quindi in questo caso la risposta è falsa. Domanda numero 39. Lungo le strade urbane il segnale raffigurato indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8 alle ore 20. La risposta corretta è falso. Attenzione, non fate la cavolata di confondere il divieto di fermata col divieto di sosta. Il divieto di fermata, quindi il segnale rappresentato in questo caso, vale sempre 24 ore. Il divieto di sosta invece, che è quello con una stanghina e basta, vale nel centro abitato, quindi nel centro urbano, dalle ore 8 alle ore 20. Fuori dal centro abitato, sempre 24 ore. A meno che non si è integrato con ulteriori pannelli. Domanda numero 40. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane principali è di 90 km orari. La risposta corretta è vero. Ora, nel video dove ho spiegato i limiti di velocità, vi ho spiegato un trucchetto per imparare i limiti di velocità. Correte a vederlo, perché è molto semplice e intuitivo. Grazie a tutti per aver visto questo nuovo video. Ora, se vi è piaciuto il video e volete continuare a esercitarvi insieme a me, mi raccomando, seguite il canale e cliccate mi piace. Alla prossima, ciao!